Ciao a tutti, sono Viola Ardone, sono un'insegnante e una scrittrice. Io insegno italiano e latino al liceo scientifico e bisognerebbe chiedere ai miei alunni se sono severa oppure no. Però sono anche una scrittrice, ho scritto un romanzo dal titolo La ricetta del cuore in subuglio una decina d'anni fa che parla di una bambina negli anni 80 che diventa poi una donna adulta e poi ho scritto un altro romanzo quattro anni dopo che si chiamava Una rivoluzione sentimentale che è ambientato proprio nel mondo della scuola con alunni e professori. Poi c'è stato Il treno dei bambini che è un romanzo un po' diverso dagli altri perché parla di un episodio storico dei bambini che nel dopoguerra vennero accompagnati da famiglie bisognose del sud Italia a famiglie del centro Italia in particolare dell'Emilia Romagna che li accolsero e li sfamarono, li trattarono come figli e poi ritornarono alle loro famiglie. Il mio ultimo romanzo che esce proprio adesso in questi giorni si chiama Oliva Denaro e anche questo è un romanzo che ha una ambientazione storica perché ambientato in Sicilia all'inizio degli anni 60, anzi proprio nel 1960. Parla di una ragazzina che si siamo Oliva Denaro a 15 anni e racconta un po' come la sua vita in quel momento, in quel periodo nella Sicilia di quegli anni dove valgono regole molto diverse per le ragazzine e per i ragazzi. Spero di avervi incuriosito e che la lettura sia anche il vostro hobby oltre che il mio. Ciao a tutti!